Il parco urbano Orti di Città, sito in località Mattine ad Agropoli, è stato dismesso a seguito di lavori di adeguamento ed ampliamento della struttura sportiva adiacente. L'amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola, intende istituire un nuovo parco urbano. Con la delibera del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2009 è stato approvato il regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani, che prevede l'assegnazione per un periodo massimo di tre anni, a seguito di apposita graduatoria formulata sulla base del reddito del nucleo familiare più basso, come da dichiarazione ISE, a cittadini residenti ad Agropoli da almeno due anni che abbiano compiuto 55 anni, che siano pensionati e che non siano proprietari di alcun lotto di terreno. Successivamente, con determina numero 614 del 14 giugno 2021, il Comune ha provveduto all'assegnazione di quattro orti risultati incolti ed in stato di abbandono agli interessi in possesso dei requisiti per il tempo strettamente necessario all'approvazione di un nuovo regolamento e relativo bando in materia. Durante le ultime riunioni della Giunta Comunale è stato chiesto di provvedere all'istituzione di un nuovo parco da destinare ad orti di città, individuare un'area comunale adeguata alle necessità e alle finalità dello stesso, di dare mandato alla Commissione Consiliare regolamenti per la redazione di un nuovo regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani e di indicare i responsabili dei servizi, ognuno per le proprie competenze degli adempimenti conseguenziali.